vi presento la prima categoria del marchio octopus dedicato al mondo della nautica la prima categoria è dedicata alle vernici e degli effetti speciali utilizzati per la manutenzione e per la verniciatura di vari particolari nelle nostre imbarcazioni il primo prodotto è la vernice vega flow paint una vernice ad alta adesività caratterizzata da un'ottima resistenza superficiale e adatta a qualsiasi supporto la caratteristica di questa vernice è di rendere luminose e molto visibili le superfici trattate una seconda vernice che ha quasi la stessa caratteristica è la vega phospho paint una vernice fotoluminescente la cui caratteristica è di assorbire la luminosità diciamo dalla del sole o da fonti luminose e di rilasciarla nei momenti in cui abbiamo buio completo o scarsa luminosità terzo prodotto della gamma è il gel cotto spray una vernice ad alto spessore di colore bianco viene utilizzata come sottofondo prima della dell'utilizzo della vetro resina oppure per stucature di leggeri imperfezioni sulla carena altro prodotto molto interessante della gamma vernici è l'anti slip spray questa è una vernice caricata con delle microparticelle di pvc che ha la caratteristica di rendere le superfici trattate antiscivolanti quindi come vernice può essere utilizzata sui punti della barca dove abbiamo magari del legno scivoloso oppure su tutte quelle superfici in vetro resina dove serve un leggero attrito superficiale altro prodotto molto interessante è la nostra reflex paint questa è una vernice di tipo catarifrangente quindi si comporta praticamente come catarifrangenti che possiamo trovare sui catagli stradari oppure sui guardrail delle strade quindi noi se andiamo applicarla sulle sui particolari della nostra barca quando questi particolari vengono illuminati da una fonte luminosa questa è la nostra vernice riflette la fonte luminosa quindi crea quasi un effetto specchio che praticamente rende la barca evidente anche a distanza altro prodotto per la manutenzione di parti metalliche soggette anche ad ossidazione con l'ambiente marino e con la salsedine è il nostro zinc seer questo è uno zinco colore diciamo è sull'argento argento grigio e serve per la protezione di tutte quelle parti non in acciaio inox che comunque sono ferro oppure metalli che possono ossidare e ha la caratteristica di avere un'ottima adesività e un'alta percentuale di polveri di zinco che crea un effetto anti corrosivo sulle superfici trattate per per la verniciatura invece di tutte le parti plastiche pvc abbiamo creato la mimic paint questa è una vernice diverse disponibili in vari colori alla caratteristica di aderire molto bene su superfici in pvc e addirittura può essere utilizzata anche su parti in pelle similpelle della barca quindi possiamo utilizzarla su parti di gommone boe o addirittura anche per il ritocco dei divanetti i classici divanetti dei motoscafi in pelle similpelle bianca per terminare abbiamo lo stripping marine questo è uno sverniciante che viene prevalentemente utilizzato nella manutenzione delle nostre imbarcazioni quando bisogna eliminare delle parti di vernice molto vecchia che con altri con classici solventi o detergenti non possono essere rimorse se volete approfondire le caratteristiche di questi prodotti della gamma octopus o se avete anche dei dubbi su sull'utilizzo vi consiglio di scrivere all'indirizzo info vmd italia punto it oppure andare sul nostro sito internet dove troverete il catalogo completo della gamma octopus scaricabile in formato pdf ciao a tutti ora pensiamo come a l'indirizzo tutto questo danno perché ti dic checklist o mi piace adesso c'inniere un sacco di attenzione dall'inكasishporti un'ast reference lı... che mi è il sistema data // ør Ahriek Ahri Ma che la domanda…